Ciao a tutti ragazzi, scusate la location ma stavolta facciamo la nostra video recensione in situazione un po' più arrangiata per così dire. L'ultimo arrivo di casa Amazon, un microfono doppio di questa marca che già ho avuto modo di acquistare un po' di tempo fa per i miei podcast. Stavolta l'ho acquistato per le mie serate karaoke che spero arrivino presto, per adesso mi sto dilettando a fare le prove in casa, non è il massimo però vabbè, ci organizzeremo. La confezione è abbastanza basic ma completa, addirittura c'è il secondo caricatore che per il nostro mercato italiano non è utilizzabile però ha una presa, presumo sia tedesca, però vabbè, è in più, lo otteniamo. Abbiamo presa italiana, libretto di istruzioni con la lingua italiana presente, quindi spagnolo, inglese, francese, italiano, jack di collegamento all'impianto e una coppia di microfoni a gelato, come si suol dire in gergo tecnico. Il microfono si apre posteriormente, vi faccio vedere, sempre che con una mano riesca a farlo, si svita la base, si svita quest'altro supporto e si inseriscono due batterie stilo AA. Ma io ho inserito due batterie ricaricabili e non ho problemi, assolutamente. Rimontiamo il nostro microfono. Scusate, non voglio farvi girare la testa, però vi ripeto, l'inquadratura non è ottimale perché sono da solo e quindi costretto a fare tutto in autonomia. Ma questo non ci fermerà. Allora, rimontato il nostro microfono abbiamo un tasto di accensione. Sotto a questa parte qui c'è anche uno switch per la frequenza, per poter modulare i megahertz su una banda qualora avessimo dei problemi con la trasmissione. Adesso è impostato sui 922 e 8 megahertz sul canale. Icona della batteria, che al momento è completamente carico. Il microfono è gelato, wireless chiaramente. E questa è la parte ricevitore, con i due controller del balance del volume, il tuning, il tasso di accensione, le due antenne che ognuna serve a uno dei due microfoni. Questo è il secondo microfono. Anche qui c'è la copertura antivento, che al momento non ho montato. Posteriormente abbiamo i due ingressi RC, lato destro e lato sinistro, l'ingresso mix e l'ingresso per il trasformatore compreso nella confezione. Semplicissimo da utilizzare, è uno strumento di qualità professionale. I microfoni sono in alluminio, belli massicci ma allo stesso momento leggeri, quindi non danno fastidio nell'utilizzo quotidiano. Ma sostanzialmente il prezzo si aggira intorno ai 99 euro, se ricordo bene. Sì, dovrebbe essere una cosa del genere. Forse l'ho preso con un coupon sconto di 10 euro, presente al momento dell'ordine. Quindi generalmente Amazon fa queste giornate a spot con queste scontistiche. Va bene, avrei piacere di farvelo vedere in funzione in una vera serata karaoke. Però per adesso dobbiamo accontentarci di un unboxing e di una recensione un po' così. Però bisogna fare di necessità virtù. Non ravviso problemi particolari e come al solito, qualora dovessi riscontrare problematiche, difetti o anche pregi, chiaramente, non menzionati in questa sede, sarà a mia cura aggiornare la recensione scritta e rendervi partecipi della mia esperienza d'acquisto nel miglior modo possibile. Grazie per avermi seguito in questi 5 minuti. Alla prossima!